Io temo che questa sia una situazione incancrenita, un po' come l'abusivismo edilizio. Cioè si è sbagliato tanto in passato e adesso è difficile uscirne. Però noi dobbiamo tenere presente che in Sicilia 73 km su 90 sono lottizzate da stabilimenti balneari. A Jesolo abbiamo come spiagge libere solo meno del 10%. Sappiamo benissimo cosa significa avere questi stabilimenti balneari che ci occupano gli spazi. E non è neanche una questione di canoni, perché il diritto alla spiaggia e al mare è un diritto di tutti, che tutti debbano poter accedere. Quindi io vedo bene questa sentenza del Consiglio di Stato. Chiaramente se Draghi saprà tutelare le piccole imprese, quelle del caso che lei ha giustamente messo in evidenza, sarà un bene. Ma ben venga che dal 2024 si riveda tutta questa situazione. Grazie senatrice Lugnes. Allora vado perché devo fare proprio un...